caro babbo natale scusa ma esisti davvero se vivi al polo nord mi spieghi perché non riesco a trovare la tua casa con google earth tu sei lì da sempre perché saresti pazzescamente vecchio e come fai a trovare il tempo per leggere tutte le lettere di tutti i bambini del mondo il primo battaglione elfi operativi pronti rapprizza con l'orsacchiotto soldato si signor oh 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 missione computer è stato saltato un bambino non strillare vuoi svegliare tutto il polo nord un ideo penso al tuo babbo sveglio nel letto che si mastica la barba dall'ansia per questa bambina non vuoi renderti utile per una volta come pensa che riuscirà? bene benone signore sappiamo che non si dovrebbe credere alle vicerie ma ci crediamo è vero che ha saltato un bambino io? no 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 beh in un certo senso sì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti